Buongiorno, buongiorno oggi domenica 9 agosto, rassinastampa in breve di video 33 cielo, variabilmente nuvoloso, temperatura in linea con la giornata di ieri, andiamo a vedere le aperture dei quotidiani che troviamo in edicola, l'Alto Adige dedica la sua apertura all'agguato del finto agente, ferma un'auto in strada, poi deruba e molestia una coppia, scarica di sassi nel paradiso della Val Fiscalina ferita una donna e per quanto riguarda l'omicidio di Merano il sospettato adesso non ricorda più niente, funzionari senza guida, caos in comune e a Bressanone Widman batte tutti con il go-kart, sfida tra VIP per beneficenza, il politico supera anche Armin Zöggeler, la cronaca cruda del Corriere dell'Alto Adige, sfiducia, verdi possibilisti, mozione dei 5 Stelle, nuove elezioni contro la paralisi, l'evento cittadino Kermes Re Laurino, festa senza superalcolici, la Ghefau dice meno divieti più educazione, la cronaca in lingua tedesca oggi come ogni domenica vi proponiamo anche la Bild Amsontag, ci si occupa del campionato di calcio, la Bundesliga, una serie di approfondimenti, tutto quello che c'è da sapere e per quanto riguarda la ZET per la cronaca in lingua tedesca a livello alto tesino, una lista, una classifica delle polizie municipali che elevano più multe, vince questa classifica forse per alcuni non certo lodevole, la città di Bressanone. È tutto, come sempre io vi ringrazio per aver scelto l'informazione di Video33.